Ciao ragazzi bentornati a tutti nel mio canale, siamo giunti alla season 4 di warzone 2.0 e mentre continuano ad uscire numerosi armi che vanno continuamente in meta io continuo ad utilizzare il hatchman 556 per quanto riguarda gli AR, per quanto riguarda le mitraillette continuo ad utilizzare il hatchman sub detto questo è uscito un bel game con tantissime kill, ovviamente come sempre non mi sono portato la win a casa però la mia media da quando utilizzo questa classe è salita dalle 5-8 kill che facevo solitamente alle 10-15 ovviamente al termine del video vai a trovare la build di entrambe le armi, non pubblico anche le calibrazioni perché ovviamente sono molto personali nel senso se io ho fatto una build, una calibrazione dalla lunga distanza ma voi non vi ci trovate quindi vi consiglio di andarvela a provare al poligono facendo le vostre calibrazioni detto questo vi auguro buona visione è visto? ha ori è nella tenda oh come cazzo va 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 terra 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 che lo fai ora fa lo rianimare aspetta ma che fa lo rianimare ma che cazzo ci hai da confermarli dietro 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 Sotto di me, sotto di me Non va, Aurelo ti voleva rubare la chine Aurelo, ma non si fa, fratello Pazzo di merda Sì o no? Vieni, comprateli, comprateli, sono 4 mila Mettete a terra, ditemelo Oh no, dai te, non lo so dove A cura, fai con noi E' quello Eccolo Ho fermato Chi mi ha annientato, bravo C'è un altro team che sparava No, no, io ci sto Mi aspetta, mi è arrivata una cerchinata Aspetta, raga Mi vogliono fare e mi fanno Sono morto, addio, arriva Miracolato Che cazzo ci sparemo fra di noi? C'è qualcuno di veramente preparato Te l'ho laserata in me Vai, vattene a destra Ci abbiamo questo elicottero Ce ne lo vogliamo Assurdo sto gioco, ragazzi Oh, puoi fare l'elicottero appiegato? Sì, fra, munì Vai, veloce A noi il cecchino e sono forti pure Oh, buttati C'è gente C, vieni qua Terra, uno Uno l'ho fatto, eh Te lutterà quello, sì No, no, c'è uno qua Sto attento Sto rinimando No, dietro, dietro, fra Aborto C***** 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 E' godo Dai c***** Ti vedete? Ti metto, davanti a mano Sto, sto In acqua, eh Bravi Tiene altri Bene, sì, sì, sì Bravi Altri, altri, altri Copri, copri, copri Al post avevano fatto sudare un attimo raga non è buona comunque qua a terra ragazzi piccioli possiamo rompere finito è stato mi mira al cecchino è messo male è messo male appogna calidro a posto per te ne pare di questo cecchino e te l'ho detto datemi cecchini a me io devo giocare con i cecchini verifichiamo vabbè ma dovevo andare a carrello devo comprare gli scudi io ti compriamo uno ti giuro tieni intanto te li do io sono arrivati raga oh io sento la chat vocale ma perché perché loro ti sento sono arrivati raga l'ho sentito purei dì glielo che siamo arrivati ragazzi siamo qui toc toc c'è nessuno arrivo arrivo però sono sotto no 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 oh mio dio scoppiati il giroviero che c'è un bastone no 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 pazzati in due ragazzi sceso il mondo là sopra stanno massacrando stanno massacrando c'è chi ne occhia sparando oh finita fatto fatto poi forse mirando mi stanno mirando con il meno a destra da dovunque vada ma dove sono tutti nascosti tutti nell'erba non ti conviene salire prima in porto lei voti la tua compa che lasera la testa dai stai sento che ce ne possono essere altri sei troppo esposto a sinistra no no raga non ci credo terzi ma quello mi ha fatto con le pistolette a poco piccato raga ma guarda tu qua ormai ce la guardiamo che dito oh raga 24 kill raga 24 kill dov'è il compagno di lui ah la so no raga non è quello che penso io spero di no guarda dov'è guarda no bro minchia un po' cosa l'ing***o se il video ti è piaciuto come sempre ti ricordo di lasciare like e iscriverti al canale per non perderti i prossimi contenuti ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao